ebbene carissimi amici benvenuti ancora sul mio canale oggi di nuovo parliamo di software state vedendo quanti video sto facendo per testimoniare vincite di termosecco dai miei programmi vincite reali vincite indocumentate vincite che arrivano e stanno arrivando copiose di ambi di termi io vi vengo a fare ovviamente solo video di termi secchi ma chiaramente ci sono anche tanti ambi vinti dai miei software oggi vi vado a testimoniare la vincita di un bellissimo termosecco dal software terno forza 90 76 48 72 vinto a tutte le ruote questo è un software che quando esce la spia 90 su qualsiasi ruota quindi in questo caso era dell'11 gennaio era uscita la spia 90 a roma il software vi dà una previsione così composta due terzine nazionale e tutte quindi una giocata molto ristretta e questa è una vincita di grandissimo valore perché se voi pensate a quanti termi secchi si possono formare con i 90 numeri si arriva veramente ad un numero enorme qui noi giochiamo solo due e qui ci sono i fatti non ci sono le chiacchiere ma ci sono le parole al vento qui abbiamo due termi in gioco ok è comunque essendo la giocata molto ristretta noi possiamo portare avanti anche più di una previsione e possiamo ottenere risultati come questo considerando che anche un termo a tutte paga più di 400 euro quindi paga il doppio di un anno a ruota quindi diventa molto interessante chiaramente se ci sono nazionale la vincita è molto più alta però anche in questo caso di una vincita è tutto valore intanto perché accolta la giocata si porta avanti in massimo 13 colpi questo è un termo a colpo e quindi volevo portarvi a testimonianza di questa emesima vincita dai miei software e vi consiglio questo software perché da tanti anni sulla nazionale da termi a tutte è capitato anche qualche vincita a ruota secca ed è un software che seguito con costanza vi darà belle soddisfazioni quindi come al solito vi lascio il link in descrizione per scaricarlo contattatemi via mail per sapere come sbloccare il programma quindi avere il codice di attivazione perché i miei software richiedono un codice di attivazione per lo sblocco tenete conto anche della promozione per avere i 16 software che sono disponibili nel mio pacchetto perché c'è una bella promozione quindi come vedete sono degli strumenti per vincere a lotto molto potenti vi attento in privato via mail contattatemi per qualsiasi informazione questa cari amici è l'ennesima vincita di termo secco dei miei software e sono convinto che verrò ancora qui sul mio canale a pubblicare video e video di vincite quindi questa bellissima vincita termo secco accorto la termo forza 90 solo due terzini in gioco per rambo e termo quindi giocata veramente ristrettissime e fare una vincita del genere con solo due terzini in gioco è di una difficoltà enorme per me questo è un risultato veramente grande per adesso vi saluto a tutti vi saluto a tutti